Proroga dei contratti a termine, nessun sabato lavorativo addizionale e avvio della produzione del nuovo furgone. Sono le novità emerse nel corso dell'incontro tra le RSA della Severe e la direzione aziendale per fare il punto della situazione sulle prospettive future del sito produttivo di Atessa. Dal mese di aprile partiranno le produzioni del nuovo furgone che confermano il trend di crescita produttiva. I 50 contratti a termine verranno quindi prorogati di altri due mesi. Inoltre, nell'ottica della politica di solidarietà all'interno del gruppo Fiat, altri 65 trasfertisti provenienti dallo stabilimento di Cassino si aggiungeranno agli attuali 50 trasfertisti di Pomigliano. Nel mese di aprile non sono previsti sabati lavorativi addizionali, in quanto con l'avvio del nuovo furgone saranno necessari momenti di manutenzione e messa a punto delle linee. Gli investimenti preannunciati, oltre 700 milioni di euro, sono ad oggi realtà, commenta in una nota la Fimcisle e ancora una volta la Sevel si conferma l'azienda trainante dell'economia territoriale dell'intera regione. Saranno positive anche le ricadute occupazionali ed economiche sull'intero indotto. Nei prossimi mesi, aggiunge la Fimcisle, bisognerà fare in modo di stabilizzare 50 lavoratori attualmente precari che da diversi anni lavorano in Sevel, anche se non in maniera continuativa, in quanto ci sono ormai le condizioni per poterlo fare. Il prossimo mese sono in programma incontri di verifica per monitorare l'avvio delle produzioni del nuovo furgone e relativi volumi produttivi fino alle ferie.